luna ha giornata tutta con il suo papà e la passa anche contata federico che ride scherza in braccia a lui davanti antonino che la riprende quanto sei bella luna chi c'è? luna? e camminiamo su camminiamo a luna piacciono molto i cartoni animati la vediamo spesso davanti alla tv grazie a tutti